E' arrivato all'ultimo rintocco il conto alla rovescia per il Natale pesarese. Domani, sabato 27 novembre, inizia il ciclo di eventi Pesaro nel cuore. Dall'albero della piazza, attorniato dalle sue casette rosse, passando per i mercatini natalizi, fino alle tante attrazioni che si diramano per le vie del centro. Vie che saranno illuminate da pescatori di stelle. E' questo l'allestimento del liceo artistico Mengaroni che addobberà e illuminerà le vie del centro con delle nasse che ricordano la tradizione marittima della città e che conterranno stelle per simboleggiare la cattura di sogni in un Natale che si colloca in una fase ancora tanto delicata. Cento nasse illumineranno le principali vie del Natale pesarese in un progetto che conferma il rinnovarsi di un legame sempre più stretto fra il liceo Mengaroni e le iniziative del comune di Pesaro. Il progetto è stato realizzato dalle classi quarta B, quinta B e quinta E ed è stato coordinato dalle professoresse Palazzo e Pagnini. Le nasse in tutto sono 100 e andranno nella città di Pesaro per l'appunto per dare un Natale nuovo, fare risplendere una magia, un qualcosa che fa parte di noi artisti. Sono molto felice di aver realizzato questo progetto perché comunque sia fa parte veramente di noi, sono riuscita a tirare fuori insieme a tutti gli altri ragazzi anche tramite le idee e comunque la realizzazione, diciamo proprio le mie emozioni, le mie emozioni non sono mie ma soprattutto dei nostri compagni ed è stato molto bello perché comunque ci ha fatto riunire, ci ha fatto sentire magari un pre, magari un'emozione della magia del Natale. La caratteristica principale è quella di unire ovviamente la città ai sogni dei ragazzi. Ovviamente la città l'abbiamo rappresentata con una Nassa in quanto essendo una città di mare la Nassa è proprio un oggetto che fa parte proprio della cultura dei pescatori, quindi della pesca e all'interno abbiamo raccolto imbrigliato, abbiamo, ci piace dire così, imbrigliato delle stelle che sono i sogni di ognuno di noi. L'idea è nata proprio per cercare di ancorare la stella, ci dà sempre quell'idea della magia, del sogno. Tutti noi, anche da bambini, da fanciulli, ci rimanda a quel senso di inquietudine, di incomprensibile anche che in questo momento forse della nostra vita stiamo proprio vivendo. e ci aiuta a non scoraggiarci, ci aiuta anche a pensare che c'è un momento futuro che avverrà dove magari riusciremo a essere di nuovo e rientrare di nuovo nella nostra socialità. E anche l'idea di non avere una sola stella, ma avere più stelle all'interno proprio per trovare quel senso di socialità, di convivio che ancora purtroppo oggi non riusciamo più a mantenere e che invece un tempo faceva parte della nostra quotidianità e forse magari non era neanche apprezzato. Applausi all'allestimento anche da parte del sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ha approfittato della conferenza stampa per comunicare anche un ulteriore accorgimento in termini di sicurezza. Si è infatti deciso che la mascherina in centro storico sarà obbligatoria nelle vie dei mercatini non soltanto il pomeriggio, come precedentemente annunciato, ma il provvedimento partirà già dalle 10 di mattina.